Oggi Sinistra Italiana voterà no convintamente alla deformazione della Costituzione proposta da Renzi alla Boschia. Sarà anche l'avvio di una lunga campagna referendaria. Noi siamo convinti che a ottobre i cittadini italiani, tra il cambiamento regressivo proposto dal Governo, che riduce gli spazi di democrazia per indebolire anche le tutele costituzionali in materia di scuola, lavoro, welfare, tutela pubblica del risparmio. E invece la vittoria della Costituzione decideranno con convinzione di stare dalla parte della Costituzione. Quindi sarà una battaglia a viso aperto che faremo nel nome della vitalità, della forza della Costituzione repubblicana del 48, della sua bellezza e della sua semplicità e contro le deformazioni di questa riforma, che non semplifica il procedimento legislativo, lo rende anche più complicato. Non riduce in maniera seria il numero dei parlamentari, lasciando la Camera a 630 e produce un Senato pasticciato. Quindi guardiamo al voto di ottobre con fiducia e ci metteremo tutto l'impegno e tutta la nostra determinazione, assieme poi ai tanti cittadini, comitati e associazioni che autonomamente dal basso diventeranno protagonisti in questa battaglia.